Come dicevi tu, attenzione un errore dell'Inter, dal basso la solita partenza che però stavolta è sbagliata, allora l'Atalanta con Ateburi, il tiro e il gol dell'Atalanta che si porta in vantaggio con De Caterare al decimo minuto, un pasticcio dell'Inter, rimane a terra Bastoni, ma qui veramente errori su errori, ce ne sono stati almeno due consecutivi in difesa. Errori di insufficienza. Sì, di insufficienza. Da capire chi ha colpito Bastoni, se è stato colpito da... Allora Pavard sbaglia, il passaggio è corto per Bastoni. Poi c'è l'inserimento, il tiro, la respinta di Sommer centrale, poi Bastoni che anticipa... Miranciuk, e no, non è fallo su Bastoni, e poi arriva De Caterare che tira di sinistro. No, è Bastoni che ha fatto il fallo, oltretutto. No, no, gli va addosso il giocatore. No, Bastoni va, non è fallo perché Bastoni prende la palla, Ugo, prende la palla e anticipa nettamente. Sì, ma però il piede gli arriva sul petto, allora ragazzi, vedete o non vedete o fate fitta di me. No, non è nessun fallo di Bastoni, vabbè, tanto comunque il gol, non c'entra niente il fallo. Il punto è se è fallo su Bastoni, ma non è fallo. De Ketelar porta in vantaggio l'Atalanta, adesso aspettiamo il check per la convalida del gol, ma non dovrebbero esserci dubbi. 1-0 Atalanta, gol di De Ketelar, fantasma, domenica San Siro contro il Milan, sente in qualche modo area di derby. Vedo l'arbitro che però si prende qualche secondo perché credo comunque verrà... Ecco, l'unico controllo è se Miranciuk la tocca col braccio nel contrasto con Bastoni, perché non c'è assolutamente fallo su Bastoni. Io ho guardato, per la verità, ho guardato più il contatto Miranciuk-Bastoni che il tocco di mano, non l'avevo notato. Allora, adesso lo stiamo rivedendo anche noi, vediamo... Eh sì, c'è il braccio largo Miranciuk ragazzi. Ed è assist, quindi è braccio. Sì, sì. Ma sei sicuro che la tocca? Ah, no, da quest'altra inquadratura no. Da questa inquadratura no, ragione Michele. Dalla prima inquadratura dall'alto sembrava che l'avesse toccata. Da questa no, sembra che Bastoni andiscipi. Sembrava che la Palla avesse cambiato giro. Qui l'errore gravissimo lo fa Pavard. Pavard fa un errore in orizzontale in una zona pericolosissima. Che non si fa mai in nessuna categoria. Passaggio in orizzontale proprio quello da scuola calcio. Bastoni forse neanche se l'aspetta, la palla è corta, si inserisce come un fulmine. Var lo va a vedere. Lo va a rivedere e probabilmente lo annulla. E non voglio immaginare la reazione di Gasperini, eh ragazzi. Colombo è l'arbitro, il Var è Di Paolo con assistente Var Marini. E la dietrologia di Gasperini. Ah, vediamo. Eh no, qua è proprio male. Qui sembra però. Beh, ma non è l'inquadratura migliore. Ma la gamba tesa di Bastoni non l'ha vista nessuno. No, non è tesa, è altezza. Ma dai, ma come non è tesa? Cioè non è tesa quella? Scusa, se tu vai a prendere una palla alta, non è che gli mette il piede in faccia, è altezza spalla. Beh, ma tu non puoi tenere il piede così regolamente. Ragazzi, secondo me lo tocca però, eh. Cioè, allora Bastoni lo anticipa, poi il braccio alza la traiettoria del pallone. Vediamo che dice Colombo. Mano, Mano, lo annulla, ha annullato il gol. Perché allora Bastoni lo hanno... Scandalo, ragazzi. Ma come che è scandalo? È tocco di mano. Siete scandalosi. Vabbè, però Ugo... Ci sono diventati peggio di... Ma Ugo, ma Ugo, ma Ugo, ma Ugo, però non è che uno dice le cose casuali. Ma per favore, su. Fallo di Bastoni... Tu già hai cominciato col fallo che non era nella discussione. Ugo, io non sono d'accordo. Guarda, io si invece... Tu lo sai che io non tifo per nessuna squadra, però non c'è un fallo di Bastoni. Ma io vorrei sentire Michele. Cioè, è fallo di Bastoni? No, assolutamente no. Ah, appunto. E neanche di Miran. Non è fallo di Bastoni. Non può, perché è un difensore. Allora, a termini di regolamento è molto chiaro, cioè da quest'anno soprattutto quando il tocco di braccio, di mano, come lo volete chiamare, porta a un gol, diretto o indiretto, cioè diventa un assist e in un certo qual modo accomoda la palla per poi la battuta di De Ketelar. Quindi rientriamo esattamente nella categoria del tocco immediatamente antecedente al tiro che porta al gol. Se qui c'è tocco di mano... Tra l'altro la beffa per l'Atalanta è che non è volontario il tocco. Ma minimamente volontario, assolutamente no. Non è volontario, perché Bastoni anticipa Miranciuk, che però è lì con il movimento naturale del corpo, la palla gli batte sul braccio, non conta la volontarietà se fai assist o gol, come stavi spiegando adesso tu Francesco. Quindi, cioè, tocco di braccio, solo quello doveva valutare se l'ha toccata o non l'ha toccata col braccio. Non c'è fallo di nessuno, voglio dire di gioco falloso, né di Bastoni né di Miranciuk. Poi, vabbè, mi sembra molto lieve, nel senso che poi, visto nella dinamica, non credo che la palla arrivi a De Ketelar grazie al tocco di Miranciuk. No, 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 però cambia, cambia, si impenna la palla, cioè si alza. Sì, è molto debole come tocco, forse ininfluente persino, come dice Michele, non lo so. Però lo tocca e quindi... Eh, no, il punto, torniamo al regolamento che dice, se lo tocca in modo influente o se lo tocca e basta. No, no, è un tocco. È un tocco, quindi quel tocco credo che ci sia. È un braccio che comunque è largo, quindi è sicuramente in una posizione non congrua e qui poi, insomma, c'è sempre lo scontro tra i puristi che dicono in un certo tipo di calcio questo non è mai fallo. Io non lo fischierei mai, non ricordo. Però queste cose qui le hanno codificate proprio per cercare di omologare e oggettivare capisco per carità e quindi mi metto in linea e se il fallo di mano c'è è giusto annullarlo. Tanto che dalla panchina dell'Inter prima poi nei treplay hanno inquadrato Turam, altri giocatori che facevano, mimavano il gesto dell'arbitro che avrebbe fatto, insomma, annullare il gol. E comunque l'Atalanta sta giocando senza paura, giocando sulla partita, crea. Sì, sì, è sicuramente più convincente che contro il Milan, su questo non ci sono dubbi. Sì, sì, no, è un'Atalanta che adesso sta ancora avendo il possesso di palla nella metà al campo dell'Inter e ora si libera anche molto bene sulla sinistra con Zappacosta che se la porta sul destro. Lui destro, il cross è buono, attenzione, pericolo di Marco che spazza, ancora il tiro alto di Miranchuk, pericolo, ancora Atalanta che in un quarto d'ora per la seconda volta si fa vedere pericolosamente dalle parti di Sommer, prima è andata bene all'Inter per questo tocco di mano di Miranchuk, gol annullato a decatelare, adesso di Marco che spazza male proprio sui piedi di Miranchuk. Miranchuk, Miranchuk. Perché è Copmeiners che invece si dispera, ma è Miranchuk che credo che abbia tirato. Io devo dire la verità, non vedo l'ora che arrivi Gasperini in sala stampa, sarò una brutta persona, però secondo me questa roba qui a Gasperini che è già riuscito a non prendersi un cartellino mi sembra un miracolo. Però Gasperini ha commentato molto questo discorso del rigore, lui ha detto io non voglio essere a favore o contro il regolamento solo se mi conviene o no e quindi ha fatto capire che anche lui era contro questo tipo di rigori che ha avuto a favore, però poi ha detto c'erano orsate errati, sono i migliori, regolamente questo, ma sapete io cosa ne penso. Quindi oggi coerentemente può darsi pure che dirà la stessa cosa. Aslani il tiro da fuori aria di Aslani, fuori, colpisce male il numero 21 dell'Inter, palla che finisce alla destra di Carnesecchi, ma non è questo un tiro pericoloso di Aslani. Aslani deve dare un po' più di sostanza davanti alla difesa. Sì, perché dobbiamo riconoscere che dopo poco più di un quarto d'ora nel primo tempo, 17esimo di gioco in corso, più Atalanta che Inter, più convincente l'Atalanta dell'Inter al netto poi dell'episodio che sicuramente farà molto discutere dell'annullamento del gol del vantaggio atalantino. Mkhitaryan nello spazio, esce Carnesecchi che lascia Darmian, il tiro e il gol di Matteo Darmian, la papera di Carnesecchi con Mkhitaryan che va nello spazio, ancora non letto dei difensori dell'Atalanta, esce Carnesecchi al limite dell'aria, forse un po' con la paura che l'aria è finita in uscita, il pallone comunque gli sfugge e arriva Darmian che a porta vuota la mette dentro, gol dell'Inter al venticinquesimo, Inter in vantaggio. La bellezza del calcio. Beh qui Carnesecchi diciamo che dimostra di non essere in grande serata perché insomma qui letteralmente lo regala Darmian, a parte il fatto che poteva bloccarla. È arrivato sulla palla, guarda. Grande palla di Lautaro a Mkhitaryan, Lautaro che spalla la porta si gira e mette nello spazio questo pallone per Mkhitaryan, bravissimo a inserirsi, ma devo dire che anche Darmian è molto bravo perché si trova al centro, lui che è un esterno destro perché capisce che può succedere qualcosa, poi Carnesecchi fa una papera. Tutto nasce, abbiamo visto già prima un'azione simile, cioè l'Atalanta sta alta con la linea difensiva e si fa prendere tra le linee, cioè lì è stata presa dietro e secondo me l'atteggiamento difensivo della squadra che non aiuta certo Carnesecchi perché comunque deve intervenire in spazi giganteschi in ogni caso. L'uscita mi sembrava relativamente facile, no Michele? Forse però non era esattamente nel tempo giusto perché se non la tiene perché è un periodo ritardo. No, no, c'è la sua parte. No, con errore di Ederson, attenzione all'Inter che ne può approfittare con Arnautovic che però sbaglia il dribbling, lo fermano e quindi qua l'Atalanta può ripartire ma l'Atalanta sta sbagliando troppe cose davanti all'aria e con l'Inter non te le puoi permettere tutte queste dimenticanze. Invece di fermarla la parla lì Carnesecchi la respinge e la sbaglia gli altri. Cioè ma fa perché non è riuscito a fermarla, non che vuole essere spinguta. No, ma ce l'ha in mano. Aveva tutto il tempo di bloccarla in realtà. Non è riuscito a bloccarla. Ce l'ha fatta. Lo dicevo fuori onda che alla fine Carnesecchi a me è un portiere per cui stravedo, però è fortissimo tra i pali, portiere vecchio stampo, sia con i piedi che nelle uscite può migliorare in queste... Beh, insomma, adesso al di là del fatto che poi Barella fosse in fuorigioco, però lì l'ha sbagliata, ha sbagliato i tempi totalmente, poi è stato graziato dal fatto che Barella era in fuorigioco e quindi poi il gol è stato annullato, ma sono dinamiche nemmeno troppo simili, c'è la palla in profondità, lui che in un primo momento sbaglia totalmente il tempo dell'uscita e si fa anticipare da Barella e in questo caso arriva per primo sul pallone ma anziché bloccarla se la lascia scappare dalle mani esattamente sui piedi di Darmian che a quel punto ha tutta la porta spalancata e segna. Attenzione ancora l'Inter che va nello spazio con Mkhitaryan e Lautaro, Lautaro al limite dell'aria, se la porta su destra, la Darmian, il tiro di Darmian, la parata di Carnesecchi stavolta Darmian non riesce ad angolare ancora Barella, il cross pericolo di Marco, il tiro respinto, ma ancora l'Inter con Mkhitaryan, siamo in aria di rigore, ma lascia scorrere, si accontenta dell'angolo, l'Atalanta in difesa veramente leggera, un po' troppo. Un funzionamento difensivo, sempre superata, sempre presa dietro. Ma poi non leggono bene gli inserimenti delle mezze ali e anche degli esterni che vanno a tagliare in mezzo, sia Darmian che Di Marco, ma pure Barella, Mkhitaryan, si inseriscono come il coltello nel burro. Considerando che c'è stata anche l'occasione sbagliata dall'autoro prima, questa occasione sbagliata da Darmian, la difesa dell'Atalanta mi sembra che faccia veramente acqua da tutte le parti. Questo è stato Ederson che ha perso un pallone banale davanti all'aria di rigore, vediamo questo calcio d'angolo dell'Inter al 29esimo, palla a spiovere di Aslani, no sul primo palo, respinge Ederson di testa, palla in fallo laterale, è il primo gol di Darmian quest'anno che aveva fatto due assist, Darmian che aveva segnato proprio in Coppa Italia con l'Atalanta, un gol che permise poi all'Inter di qualificarsi nel cammino verso la finale due anni fa. Ora l'Atalanta prova a ripartire, mezz'ora di gioco, 1-0 per l'Inter che l'ha sbloccata con Matteo Darmian, il tutto fare di Simone Inzaghi ma anche già nell'anno dello scudetto di Conte, veramente un giocatore sottovalutato, forse adesso un po' meno ma sempre sottovalutato. Attenzione ancora l'Atalanta con De Catelare e Zappacosta a sinistra, ora tornano indietro con un giropalla da sinistra a destra, Ederson ora va a far salire, dall'altra parte tutti gli effettivi con Scalvini che si propone sulla destra, c'è il largo Atebur, Atalanta che ora va in orizzontale davanti all'area di rigore dell'Inter che però è tutta dietro la linea della palla, parte il traversone, respinge ancora Darmian che taglia molto bene, Arnautovic prova a far ripartire Lautaro che non riesce nel dribbling ma se ci fosse riuscito ancora Atalanta altissima, posizione molto rischiosa della linea difensiva, ora c'è De Catelare che non fa una vera punta di riferimento perché svaria dappertutto, quindi Atalanta che cerca di non dare punti di riferimento, palla in fallo laterale, Inter che può respirare. Mi sembra che l'Atalanta un po' il contraccolpo sul gol del vantaggio dell'Inter l'abbia subito, non so se siete d'accordo. Come cambiano le partite è incredibile, dal possibile vantaggio dell'Atalanta per un dettaglio si è ribaltata e adesso è l'Inter che fa la partita in vantaggio. E cambia tutto, Paolo, anche perché adesso l'Inter sembra aver ritrovato quella tranquillità e quella sicurezza che all'inizio perlomeno sembrava non avere anche stasera. Ma forse l'approccio non era stato tanto intenso, lo diceva anche Michele, praticamente lasciavano un po' palleggiare l'Atalanta, erano un po' attendisti, poi c'è stato quell'errore quella distrazione di Pavarda, però non sembravano così affamati come in certe partite. L'Atalanta non è approfittato, o se l'ha fatto, l'è stato tolto il gol, però poi appena l'Inter ha guadagnato campo si è vista proprio un allineamento difensivo, ma anche una disattenzione pazzesca, cioè almeno in tre occasioni. E quindi è chiaro che poi l'Inter ti fa male. Grandissimo, gigantesco. Ecco io questo risco più ritardato. Ma perché? Ma perché, scusa? Ma rischi di fargli fare male, che si fa male un attaccante che fa uno scatto inutile? Di due metri pure qua. Che recupera la palla con Lautaro e il tiro traversa! Traversa esterna e palla fuori. Gran tiro di Lautaro. Inter che ora prova a raddoppiare. E la palla va sulla traversa. L'occasione per l'Inter, capitata a Lautaro Martinez, che calcia bene questa volta, e Michele calcia molto bene di collo pieno, prima l'aveva sparacchiata le stelle, qui invece la mette in porta ed è solo la traversa a negargli la gioia del 0. Sì, poi Darmian ha conquistato il pallone con un anticipo che in caso di gol sarebbe stato controllato al VAR, perché era un po' proprio al limite la riconquista della palla di Marco. No, era fallo. Era fallo, dici? Però tu non sei più credibile stasera, perché hai detto che un era rosso, l'altro era fallo. Cioè, Ugo vede solo robe contro l'Inter. No, io sono sincero, hai capito? Differenza vostra. Obiettivo. Esatto. Ricordiamo che se avesse arbitrato Ugo stasera, l'Inter era in dieci sotto di un gol, era un altro mondo. È bravo. Gormiano è espulso. Gormiano è espulso. Davo... Ma Bastoni si salvava era giallo, Bastoni. Bastoni lo salvavi o era rosso? Forse no, gioco pericoloso è espulso. No, no. Giro palla dell'Inter con Darmian e De Vrij. Sì, la partita è andata un po' affolata. C'è stato 3-4-5 minuti di Inter. Poi l'Atalanta con quel gol ha spaventato l'Inter, gol annullato. E lì l'Inter ha un po'... È finita la partita. Ha un po' ballato per 10-15 minuti. Poi invece c'è stato il primo errore dell'Atalanta, fuori gioco, gol annullato all'Inter. E lì hanno iniziato una serie di errori dietro l'Atalanta. L'Inter segna, poteva anche farne un altro. E l'Atalanta da lì non è riuscita più a dare continuità alla sua azione. Ora ci prova con un cross da destra, respinta dalla difesa dell'Inter. Dall'altra parte l'Inter ha preso sicurezza. Con il gol è tornata in modalità più gestione. Vogliamo dire, Michele, che uno dei problemi dell'Atalanta, almeno adesso, è che gli manca un centravanti? Perché io vedo un sacco di palloni messi in mezzo, ma non c'è nessuno che li va a prendere. Anche prima, quella specie di rovesciata in area di rigore di Ederson, che è rimbalzata a un metro e mezzo dalla porta di Sommer. Lì non c'era nessuno a spingere dentro, anche adesso. Ma il centravanti che intendi tu è Scamacca. Perché gli altri sono tutti di movimento. Sì, ma è vero, sì, penso a lui, però penso anche a consegne da parte dello stesso Casperini. È vero, sono d'accordo, però ragazzi non dimentichiamo che stanno giocando contro l'Inter, che sta giocando molto bene, sta creando tanto, quindi diventa anche difficile creare delle situazioni da gole. Secondo me l'Atalanta la partita la sta facendo, perché non è mica ancora finita. Ecco, per esempio adesso Giappacosta che se ne va in dribbling in mezzo a tre, il quarto lo ferma ed è sempre Darbian. L'uomo ovunque. Come Ugo? Dico, aveva fatto una cosa bella. Poi l'Inter. Eh, ho capito, in mezzo a quattro però era difficile. Può sembrare che ci voglia un centravanti per l'Atalanta. Però l'Inter sono in cinque anche in difesa nella... Eh, ti ho detto, cinque avanti, cinque dietro. Gioca tra cinque e due e cinque. L'Inter fa il cinque e cinque. Vabbè, il tre diventa un cinque. Sembrano di più, sembrano. Anche sei, otto. Ora Inter in possesso palla. Manca un minuto e quindici secondi alla fine di questo primo tempo, dove alla fine abbiamo visto comunque, ecco, possesso palla. Ora arriva il dato, 61 a 39. Un po' come è stato con il Lecce, anche se è una partita completamente diversa. Anche lì il Lecce nel primo tempo era riuscito a tenere la partita in equilibrio, anche pressando alta. Poi, nei secondi tempi, l'Inter quest'anno spesso ha schiacciato gli avversari. Ora, con De Vrij e Aslani, la manovra all'altezza della linea del centrocampo, avanza a bastoni. C'è Barella a sinistra. Hanno scambiato un po' le posizioni. Barella e Mkhitaryan. È un continuo cambiare di posizioni. Ora ti ritrovi Barella a sinistra e Mkhitaryan al centro. Pavarga va ad aiutare il centrocampista. Arriva anche dietro Aslani ad anticipare l'attaccante. Ora c'è un fallo e una munizione. Vediamo chi è. Ederson, secondo me. No? Che ha batteso il fallo. Il fallo bastone. Mi sembrava netto. Protestano un po'. Ederson, non so, forse per un'occasione precedente. Eh sì, Ederson su Pavarra. Gli mette il piede sopra, forse anche sia gamba tesa che un po' pestone. Una via di mezzo. Rimane dolorante a terra qui Pavarra e Ederson. Una cosa che mi incuriosisce, chiedo a Michele, ma ai tempi vostri, cioè io non credo che quello che adesso si chiama step on foot non... Chioccavano. Allora, o le scarpe di adesso sono fatte di carta velina, o voi usavate, non so, degli scarponi da sci. Perché, cioè, no, il pestare il piede, io credo che sia una cosa che esiste da quando esiste il calcio. Ma è possibile che adesso... Il contatto... Cascano come mosche. Il contatto nel calcio esiste, c'è e deve continuare. Purtroppo per lo spettacolo hanno, secondo me, modificato alcune cose, iniziare dai palloni, dalle scarpe che sono... Le scarpe sono di plastico, una volta erano di pelle, leggerissima. Ma non credo che ai vostri tempi un pestone sul piede non lo prendeste mai. Cioè, penso fosse abbastanza normale. No, lo prendevamo a centinaia in più. Eh, hai capito? Però non è che ne andavate per terra. Il terzo o quarto fallo da criminale forse lo ammonivano. Oggi al primo fallo viene ammonito e quindi è tutto più semplice. Ma questo lo fanno per agevolare... Uh, lancio di bastoni per Di Marco che si trova a destra. Ancora Inter che continua a invertire i giocatori. Ora Pavaro per Lautaro, a limite dell'aria. Lautaro sul sinistro, ci prova e il tiro fu... Gol di Lautaro! Gol! Del Toro! La palla che va a finire nel sacco! Mi aveva dato l'illusione ottica di un esterno della rete. Anche Lautaro dice cosa ho fatto col sinistro! Gol numero 102 in Serie A. 128 nell'Inter. Ventitresimo in campionato. Insegue tutti i record. Il numero 10 dell'Inter. 2 a 0 per l'Inter. Che non dico la chiude nel primo tempo, ma la indirizza bene questa partita. Al 47esimo, Internazionale 2, Atalanta 0. Cioè, Carlesicchi si lamenta di qualcosa, ma non ho capito esattamente di che cosa. Che l'hanno fatto girare, perché spalla alla porta Lautaro, si gira e fa un grandissimo gole. O si lamenta perché ha preso un pestone da Di Marco. Spalla alla porta, lì il difensore non lo deve far più girare. Ha fatto un gol, faccio. I Carlesicchi, secondo me... È Attebur. Secondo me si lamenta perché è stato colpito da... Ritiene di essere stato colpito da Di Marco in uscita. Però no, perché è di nuovo lui che fa lo stesso errore di prima. Cioè, arriva in uscita disperata, scivolata a terra, quasi al limite. Sono d'accordo, ma la gioca per gli avversari. Da come si tocca l'avambraccio sinistro, da come si toccava l'avambraccio sinistro, mi dava l'impressione di dire, guarda che mi ha preso in uscita. Sì, no, no, lui protestava per quello. Sicuro protesta per quello. Adesso ce lo faranno rivedere dall'inizio, perché non l'abbiamo visto bene. Intanto Turam è quadrato che... Fallo, ecco, Carnesecchi dice con... No, no, il gol è buono. Ma comunque Lautaro... Ma sì, ma sì, ma non c'era stato niente. Cioè, la giocata di Lautaro è pazzesca, però ha avuto il tempo di sbagliare il controllo, di aggiustarsela e a Teburli che lo guardava e non gli è mai andata in pressione. Cioè, la fase difensiva dell'Atalanta stasera è disastrosa. Forse hanno pensato che col sinistro non era l'età dell'Autaro. Ma sia di reparto che di singoli, dai, perché... Insomma, sull'Autaro, al limite dell'area, non va in pressione? No, no, certo. Devi, assolutamente. Devi. Gli ha dato il tempo di controllare, di sbagliare a spostarsela, di riprendere e di calciare. Ah, no, ecco, Carnesecchi voleva un tocco di braccio di Di Marco, che però hanno controllato e non c'era. Eccolo qua. No, non c'è assolutamente nulla. Lui voleva un tocco di braccio. No, no, adesso lo chiama subito. Secondo me l'ha visto male. Finito il primo tempo, finito il primo tempo, Inter 2-Atalanta 0. Un Inter che sta vincendo, devo dire, anche facilmente questa partita. Per come si era messa, poi alla fine sono iniziate a piovere occasioni per errori della difesa. Devo dire che Carnesecchi sbaglia su tutti e due i gol in modo abbastanza clamoroso. Eh, beh, insomma, in questo momento Carnesecchi ha... No, dici? E' bravo Di Marco che si inserisce a destra. No, no, sul tiro, sull'uscita spericolata dove va. Ma, 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 ma... Passate un quarto d'ora... Lì l'unica cosa era magari uscire con un po' più di decisione e buttarla in farlo laterale, magari. Ogni volta che esce è indeciso, sta sbagliando tutto in uscita. Anziché lasciarla... Poi Lautaro fa un grandissimo gol. No, vabbè, Lautaro fa la presa, la stoppata, la stava perdendo, il difensore dov'era? Ma no, ma, ma, ha sbagliato lo stop, come diceva Paolo, se la porta sul sinistro, poi alla fine diceva, beh, se non mi marcati io tiro. E prende l'angolino, tra l'altro papà che sembrava uscire. Sì, pratica chiusa direi, cioè dovrebbe proprio addormentarsi l'Inter in campo e credo che Simone Inzaghi non lo permetterà, nel senso comunque vedremo dei cambi, c'è chi entra sempre all'altezza, è stimolato a fare bene. Ma credo che, cioè, i giocatori italiani ti dà l'idea di divertirsi tanto giocando. Sì, sì, si diverte. È così, è così. Ma il capocannoniere del campionato, chi fa spettacolo, chi gioca alla grande, in un tempo ha avuto tre occasioni davanti alla porta da solo, cioè quella è la differenza. Vedi, Vlauvi, un tiro in porta fa un gol, gli capita una volta. Lo dico sempre. Questo in un tempo, il secondo tempo magari sarà ancora di più. Sì, lo dico sempre, in troppi dicono che sono severo con Allegri, no, purtroppo è lo sviluppo di calcio che è diverso. Comunque oggi Paolo ho visto, io adesso, cioè l'Inter la vedo e la rivedo, le partite le rivedo più volte, però l'interscambiabilità di questo primo tempo a questi livelli non l'avevo mai vista. Cioè adesso nel gol di Marco è a destra, Barella a un certo punto era a sinistra, Bastoni è andato in alto, cioè non sai più dove è. Secondo me vanno loro. Stanno bene, si divertono, diceva prima Paolo, si divertono, per cui tutti si vanno a cercare la palla, hai capito? Però è cambiata la partita dopo il gol, perché a quel punto hanno detto, ah vabbè, allora... Lo parli sempre te. Il vantaggio è tale che in questo momento hanno un'autostima, una tranquillità che è veramente... È disarmante. Fa la differenza, fa la differenza. Disarmante, mi sembra la definizione giusta, Ugo, nel vedere l'Inter, cioè di fronte al fatto che comunque... È tutto facile, corrono e fanno girare la palla a 200 all'ora, stanno vincendo e fanno pressa come se perdessero. E lì c'è l'entusiasmo, cioè bisogna considerare questa cosa. Inzaghi devo dire che ha fatto un ottimo lavoro, Inzaghi, la società, tutti quanti. Ugo, nel 2024 sono 11 le vittorie. Sarebbe l'undicesima, sì. Adesso hanno intervistato Michi, l'Italiano ha detto, no, no, non è finita assolutamente. Inzaghi, la parola... La frase è d'ordine, no, la parola d'ordine. Anche i nostri amici interisti in studio pensano che il campionato sia ancora aperto, però voglio dire... Ma i grandi giocatori, quando le cose vanno bene, ce lo capisci da queste cose. Ma lo slogan che fa divertire anche un po' quello di Inzaghi, delle ultime due partite, è che dobbiamo rimanere concentrati anche quando dormiamo. E i giocatori lo hanno anche ripetuto nelle interviste, fa un po' sorridere. Però, insomma, l'Inter, si diceva, uno dei difetti dell'Inter, soprattutto l'anno scorso, è stato troppi alti e bassi. Cioè, belle partite, ma anche poi le 12 sconfitte in campionato. Quest'anno l'attenzione assolutamente non sta calando. A partire da Lautaro, che vuole, per esempio, anche in Coppa Italia, non voleva uscire dopo che ha sbagliato il rigore, vuole dare l'esempio, e tutti poi lo seguono. Un gruppo si è affiatato, poi quando le cose vanno bene è tutto più facile. Facciamo gli up and down, Michele. Sì, sì. Chi salghi scende dalla tua Inter di stasera? Va bene, allora, sugli app ce ne sarebbero più di tre, però scegliamone tre. Allora, Lautaro, sono monotono, ma lo devo mettere anche oggi, perché fa un grandissimo gol di sinistro stavolta. E quindi gli do un bel sette e mezzo, perché anche sul primo gol, fa un bellissimo movimento e dà la palla a Michi Italian, quindi anche sul primo gol ci mette lo zampino. Sette e mezzo. Poi do un bel sette a Darmian, che segna il primo gol, ma sta comunque spaziando da destra a sinistra. E poi ne dovrei mettere tanti, scelgo tra gli altri, scelgo Di Marco, perché è decisivo nel secondo gol, ma l'ho visto anche molto attivo in tante azioni, potrei aggiungere Michi Italian, Bastoni, ma scelgo questi tre, quindi Darmian e Di Marco sul sette tutti e due. C'è qualcuno che scende? Qualcuno che scende. Arnautovic è inesistente, non sembra un giocatore di calcio. Sono d'accordo con Ugo. Sì, inesistente, no. Inesistente? Tu l'abbia nominato due volte forse. Hai dato due volte la palla, addirittura ha sbagliato, non è un giocatore. Cioè in un Inter che crea e gioca in questa maniera il fatto che tu abbia nominato due o tre volte Arnautovic. Arnautovic non ha tirato in porta, veniva più dietro a cercare di fare la sponda, però come la fa l'Autano la fa perfetta. E non è neanche riuscito a fare la sponda. Qualche volta, sì. Allora a me veniva in mente subito l'errore di Pavard. Cioè ma non è che è scasso da stasera, eh? Ecco intanto i dati, 9 tiri a 3, 3 a 1 in porta, 62 a 38 in possesso. Beh certo, anche l'erroraccio di Pavard, poi fortunato perché è intervenuto il Vara. No, no, però quello è un errore e io gli do 5 e mezzo perché se lo fai, che ne so, in una partita secca, poi stiamo dicendo il primo tempo, in una squadra che attacca con tutti gli effettivi, però andando a cercare il pelo nell'uovo, quello è un errore abbastanza grossolano. E quindi gli do 5 e mezzo a Pavard. Gli possiamo dare 5 e mezzo a Arnautovic, va bene? 5 e mezzo a Rana, nel senso che non ha inciso. Beh a Pavard dà anche un bel cinquino. Sì, sì, 5 e mezzo è un errore. 5 e mezzo. Eh ma 5 e mezzo è tanto. Ah, tu dici 5 e 6. Però dopo Paolo, a livello... Poi ha giocato, ha attaccato, è un errore pesantino. Si è sovrapposto, ha crossato, ha giocato bene. Sì, però l'episodio è importante, sono d'accordo. Era un po' buonista al 5 e mezzo, secondo me. Sì, sì, però la squadra questa è giocando a pieno. No, visto che si fa fatica a trovare negatività nell'Inter. Poi ecco il terzo, non è che mi è piaciuto per come me l'aspettavo oggi, però insomma, diciamo da 6, Aslani vorrei più personalità, perché sta crescendo in questa stagione, ha fatto delle brutte partite le prime volte, mentre a Firenze, a Lecce, ha fatto bene. Però in quello sbandamento del primo quarto d'ora si è visto non avere davanti alla difesa uno di grande leadership come può essere. Cioè, ah no, ho lo stesso Acerbi quando gioca dietro. Però insufficienti, restiamo con questi due. Arnautovic e Pavard, 5 e mezzo, va bene. Stavo rivedendo il secondo gol di Lautaro Martinez. Certo, Michele, che se ti trovi di fronte a Lautaro Martinez, ti lasci puntare, gliela lasci piazzare, gli fai prendere la mira, cioè, voglio dire, no? Ma a Tebuero sembrava indietro in Giassi invece andare avanti. Ha un grandissimo gol, ma il difensore qua davvero, secondo me, ha grandissime responsabilità. E poi volevo aggiungere che queste qua, secondo me, sono partite che per chi gioca poco come Arnautovic, sono grandi opportunità, cioè, per dimostrare che sei all'altezza. Se le sbagli così diventa difficile, perché tutti quanti adesso aspettano il rientro di Turan. perché se Arnautovic fosse entrato e comincia a fare due gol, ne fa tre, ne fa uno, sai, è quello il ruolo, secondo me, dell'attaccante che deve mettere in difficoltà l'allenatore con le prestazioni. Però, secondo me, il calcio di Arnautovic è una... c'entra poco col calcio raffinato, tecnico, palla per terra. Non è che caccia l'ha, però lui deve stare corta la squadra nella metà campo avversario, se hai tanto spazio... E' dentro l'area, perché comunque al piede è un po' ruvido, non ha tante letture, secondo me. Ma Paolo se l'hanno preso è perché lo ritenevano... No, beh, sì, loro l'hanno preso. E là è stata tutta una scelta particolare. L'hanno preso perché praticamente... Hanno preso Pavar, il tesoretto su Pavar, e la punta erano rimasti pochi soldi. Spendere poco, che poi, secondo me, 10 milioni alla fine per Arnautovic, per l'età che ha, non sono pochissimi. Sì, però... Non sono pochissimi. L'Inter gli ha dato Fabian, sarebbero 4 più 4 più 2 di bonus, Fabian ha valutato 4 e 5. Ma Fabian era sganciata, però. Sì, sì. Fa sempre 10, quelli di Arnautovic. Sì, sì, no, però per dire che... E poi l'Inter su Fabian ha un'opportunità. 12, per 2025, sì, sì. A 12. No, ma l'Inter avrebbe potuto prendere Scamacca, se ne è parlato anche oggi e ieri, perché si faceva... Scamacca ha preferito l'Atalanta, cioè... Però non avrebbe avuto i soldi per Pavar. Quindi oggi l'Inter è contenta di essere andata sul difensore perché si ritrova un Pavar, che insomma parte oggi, che ha sbagliato il passaggio. Va bene, l'Inter che viaggia alla grande, diamo un'occhiata alla classifica. Dopo questi primi 45 minuti di Inter-Atalanta, Inter che sale a più 12, a 69 rispetto alla Juventus, ferma a quota 57 punti in classifica. L'Atalanta deve stare attenta perché intanto si ferma a 46, viene scavalcata dal Bologna, punto primo. Punto secondo, ha la Roma a due punti. Il prossimo turno di campionato c'è Atalanta-Bologna. Ma lì guarda, lì è fantastico perché dalla Lazio al Milan, veramente, siccome ne passa una, barra due, se andranno cinque squadre... Tu ricomprendi anche il Milan nonostante i cinque punti di distacco sul Bologna? Lo consideri ancora a rischio il Milan? Sì, ma io dicevo che bisogna guardare la salute delle squadre. Cioè il Milan comunque, a parte quello... No, ho detto dal Milan in giù. Il Milan secondo me dovrebbero smettere di giocare per rischiare di uscire dalla Champions. Credo che Paolo intenda dal Bologna in giù. Esatto, dal Bologna in giù. Il Milan io lo vedo dentro. Io parlavo di Bologna... No, il Milan lo lascio fuori. Metto le altre, tutte le altre. No, ma da come l'hai detto, sembrava che anche il Milan dovesse preoccuparsi, no? Scusami. No, no. Non voglio altro parlare. No, no, nel senso, no. Cioè, poi ognuno, poi sono punti di vista. No, però quando prima vi dicevo della partita, anche se l'Inter dovesse perdere, era talmente una cifra di gioco, una sicurezza, che voglio dire, potrebbe essere veramente un episodio incredibile, ma non c'è nemmeno l'episodio. Quindi voglio dire... Non ce l'ha stato, ma gli è andata bene. Sì, ma gli è andata bene, però vedi che poi sta vincendo e ha dominato col gioco. Sì, sì. Ha creato tantissimo. Abbiamo visto anche i primi tiri, 9 a 3, 3 a 1 nello specchio. Tu quando giochi a calcio... 61 a 39 di possesso. Ti aiuti molto. Infatti lo diceva Michele, tu guarda Lautaro, anche in una partita che hanno iniziato un po' così così, c'è avuto 3-4 occasioni. Cioè, Vlaovic veramente a volte ne è una partita. Beh, più facile per un attaccante, Michele, giocare in questa maniera con tutte queste opportunità. Quella è la fortuna, ma non soltanto di un attaccante, di tutti i giocatori. Cioè, riuscire a entrare in un gruppo che gioca bene a calcio e quindi... Sei in un meccanismo che funziona e quindi funzioni anche te. No, tra l'altro la cosa che mi viene da pensare è che se, come credo, l'Inter non commetterà l'errore di smontare il giocatore come ha fatto De Laurentiis l'anno scorso con il Napoli, mi dà l'impressione di una squadra talmente quadrata da poter aprire un ciclo. Cioè, il Napoli si è sportivamente suicidato da solo quest'estate con le scelte di un presidente che... Sono voluti andare via, ha giuntoli a Spalletti. Io sono molto curioso di vedere... Mettiamola così. Non per colpa, diciamo. Mettiamola così. Insomma, sono voluti andare via, ma erano messi nelle condizioni di decidere di andare via. Sicuro, sicuro. No, se fosse rimasto quel pacchetto di giocatori con quella... Magari il Napoli quest'anno poteva dire la sua. Sì, sì, sì. No, l'Inter non credo che commetterà lo stesso tipo di errore la prossima estate. Io sono molto curioso di vedere dove andrà Antonio Conte. Perché secondo me doveva lui vinceranno, perché lui tatticamente e tecnicamente è veramente avanti a tutti. Tu dove lo vedi? Buttati, cioè. Che secondo me le cose le sai. Le squadre che lo possono prendere sono due o tre, non è che siano tante. Tu dici, intanto torna in Italia. Se torna in Italia, le squadre per lui sono Juventus, Milan, Napoli e Roma. Ok. Una di queste quattro qua. Se torna in Italia. Se no, c'è anche il Bayern, che è una panchina molto, molto allettante. Però... Eccoci qui, noi insieme. Secondo tempo iniziato da 30 secondi. Cambio nell'Inter. Lo scientificamente in Zaivi non si sbaglia mai. Esce Darmian, ammonito, entra Dunfris, staffetta che era già prevista, accentuata, accelerata da questa munizione di Darmian. E quindi ci sta. Così come, ripeto, attenzione però perché sbaglia stavolta l'Inter con Sommer dietro. Attenzione a Atalanta in avanti. Poi se la cava l'Inter con Aslan in ripiegamento difensivo. Un po' tutte e due le difese un po' allegre, devo dire. Non è da Inter. Anche l'Atalanta non è una difesa che prende tanti gol. Ne aveva presi 25 prima di oggi. L'Inter addirittura solo 12. Dico addirittura perché si viaggia su una media di meno di 0,5 a partita. Ora ha lanciato Dunfris nello spazio. Però dietro tanti errori. Dunfris, attenzione, se ne va a destra. Ora un po' con esperienza. Diciamo, viene un po'. Si dice mestiere. Mestiere, ecco, mestiere. Non mi veniva la parola. Proprio così, è stato leggermente spostato, ma senza commettere gran che fallo. È come se tu dessi rigore adesso. Zappa Costa, no? È chiaro che Zappa Costa, lo so anch'io che si disinteressa del pallone. Però qui, siccome è difficile da codificare questo tipo di situazione, si dice l'intensità di una spinta la valuta l'arbitro. Sì, però diventa un delirio, capisci? C'è l'intensità, non c'è più l'intenzione. Come fai ad orientarti? Secondo me viene spolpato della sua essenza naturale. Il calcio sembra quasi più PlayStation, no? Un gioco forse finto, senza contatto, però vabbè. No, per carità, poi spesso e volentieri quando si dice una volta... Lautaro che lancia Di Marco nello spazio, ancora bravissimo Federico Di Marco che carica il sinistro e il tiro alla parata di Carnesecchi. La palla sarebbe andata sul primo palo in porta e bravo Carnesecchi a mettere il piede. Certo, tirare lì in diagonale sul secondo palo sarebbe stata ancora meglio. Grandissima l'apertura di Lautaro a centrocampo che ormai fa anche il regista offensivo. Lancio molto bello alla Cialanoglu per Di Marco, il tiro di Di Marco di sinistro. Ha un grande piede per il clima. Hai visto la linea difensiva dell'Atalanta ancora come alta? Altissima, completamente altissima. Allora intanto mi segnala Jacopo Gioveni della regia una notizia che mi fa un po' sorridere. Riflessioni sul futuro di Bicica a Sassuolo. Vabbè, è vero. 90 minuti, ha preso 6 gole, è vero? Vediamo il calcio d'angolo. Francesco Palla che spiove in aria la respinta di Scalvini ma palla ancora all'Inter con Aslani che batte un corner corto. No, la dà Di Marco. Il sinistro di Federico Di Marco troppo forte la palla che va fuori. 71.422 paganti a San Siro per Inter Atalanta. Si parla di un'ipotesi gattuso che appena ha chiuso il suo rapporto col Marsiglia io capisco tutto, la fresia però mi fa ridere. Cioè Bicica arriva dalla primavera, l'hanno catapultato di prima squadra prendi 6 gol col Napoli e capisco che siano tanti però insomma da qui a mettere in dubbio come Liberani, no? Fa due partite alla Salernitana e Sabatini ha bisogno di dover andare a dire no ma tanto state tranquilli che Liberani non si tocca cioè l'hai appena cambiato, due partite. No, vabbè, vabbè, ma perché con certe scelte si ricoprono di ridicolo però su Bicica non c'era certezza perché si era anche forse un po' capito che loro stessero trattando vari allenatori adesso vabbè, tu hai parlato di gattuso io non sono così convinto che possa accettare Ne dubito che c'è Cioè sta prendendo lo stipendio dal Marsiglia Scusate perché c'è un possibile rigore tocco di mano Sta prendendo lo stipendio dal Marsiglia e va a rischiare di sputtanarsi però si parlava per esempio di semplice Ballardini cioè quindi ecco Il nuovo che avanza Sì, assolutamente Possibile fallo di mano per l'Inter in questo caso davvero pioverebbe sul bagnato per quanto riguarda l'Atalanta Perché la palla Il fallo di mano ha questo fallo di mano di Attebur Con il braccio destro Perché la palla Non è uscita Esatto E questo è il punto che devono valutare Perché c'è stato questo cross Sembrava troppo lungo per tutti di Di Marco Infatti Carnesecchi la lascia uscire Però la palla siccome è a giro calciata di Marco Va sulla linea e ritorna in campo Cross di Dunfriss Palla su Attebur che è il braccio largo Il problema è quando tocca la linea La palla è uscita oppure no? Sì ma Attebur comunque è in una serataccia Perché tu lì Ma anche Carnesecchi che la lascia sfilare Dico ma vai con le mani dietro Allora il fallo è Juventus Genoa Il fallo di Bani Gli dà rigore È molto simile perché Attebur È il braccio comunque leggermente largo Bisogna capire se lo tocca o no Però nel momento in cui lo tocca Attebur è il braccio largo Il tocco qua è più evidente Del gol annullato dall'Atalanta Gasperini non sa più Desperato È un check abbastanza lungo questo Sì perché l'arbitro non sta andando a vedere Non è ancora stato richiamato Perché devono prima valutare se c'è il tocco di mano E se la palla è in campo Quindi sono un paio di cose da controllare Ma io credo che abbiano certificato che la palla era in gioco Perché continuano a farci vedere Eppure Guardalini alza la bandierina Guardalo dietro E allora vuol dire che è fuori la palla Lui la vede fuori Però sembra che non sia uscita Quindi sono due cose da capire Se la palla è uscita o meno E poi se tocca o meno il braccio di Sono tutte e due complicate da stabilire Dalla ripresa no Il Guardalini però alza la bandiera Il Guardalini alza la bandierina Come a segnalare che la palla è uscita dal fondo E mi sembrava anche posizionato abbastanza bene il Guardalini Però lì come sapete deve essere interamente fuori Non è ballare come c'è Allora detto questo nel momento in cui lo richiama al VAR da rigore Sì allora perché esatto Se invece non lo richiama è perché non trovano un'immagine chiarissima Perché non c'è la goal line technology sulla linea di fondo E quindi se non riescono a stabilire con certezza che la palla è in campo Rimane la decisione dell'arbitro Invece viene richiamato l'arbitro In questo momento quindi hanno stabilito secondo me che la palla è in campo E quindi è in campo A questo punto il tocco di mano è di rimente Se l'ha presa di mano è rigore E quindi arriverà anche il calcio di rigore per l'Inter Perché nel momento in cui la palla viene certificato che non è uscita Altra sciocchezza della coppia carne secchia a Tebuer In questo caso l'arbitro non potrà che constatare il fallo di mano del giocatore dell'Atalanta E a segnare Prima sul lancio non lì Comunque io continuo a avere qualche dubbio su questo tocco di mano Allora qua si capisce se la palla è uscita o meno No non è uscita la palla E non è minimamente uscita Quindi qui per rendere uno svarione clamoroso il guardaline che segnala la palla fuori Davvero? La palla è in campo La palla è in campo sicuro Sul tocco di mano io ho qualche minimo dubbio Vediamo un po' l'arbitro e anche lui è un po' dubbioso Ma credo che alla fine dia il rigore Rigore per l'Inter Sì sì perché se lo chiama è perché ha visto il tocco di mano Se no non lo chiama Anche se vedendo i replay ci sono alcune immagini in cui non riescono a fermare bene il pallone sopra Anche qui dieci minuti Però non era facile la valutazione Completamente spolpata il ritmo e la filosofia di una partita Allora la palla fuori secondo me si vede anche a occhio da questa immagine in linea con la linea di fondo che non è uscita Io ho più dubbi vediamo Il fallo di mano c'è il tocco di mano c'è perché la palla cambia traiettoria No però guarda qua rimbalzo lì da questa prospettiva sembra fuori Infatti il guardaline ragazzi che non è messo male Il guardaline è all'altezza della bandierina e lui la vede fuori e alza la bandierina Il rimbalzo sembra fuori C'è un cartellino giallo anche per Jim City Probabilmente per proteste il capitano dell'Atalanta E adesso l'Inter ha davvero l'occasione per chiuderla in maniera definitiva E poi dovrebbe tirare Lautaro che insegue anche diversi record Non c'è nemmeno Cialanoglu che è il primo rigorista Ma credo che anche in futuro da marzo in poi potrebbe battere molto di più Cialanoglu i rigori Lautaro anziché Cialanoglu Anche per questo discorso non solo della classifica cannonieri ma proprio di tanti record Ma potrebbe puntare 36 gol di Wayne? Potrebbe, potrebbe Adesso è a 23 Insegue il 24esimo Vediamo se ce la fa il capitano Lautaro contro Carnesecchi 54esimo minuto Il numero 10 dell'Inter Parte la rincorsa Il tiro di Lautaro Parata di Carnesecchi Arriva Di Marco Gol Che però vediamo L'arbitro era lì fermo Eh, l'arbitro aveva dato un fallo Non si capisce assolutamente niente Vediamo perché l'arbitro ha segnalato anche qua Oh ragazzi è gol del l'Inter Anche se le grafiche danno il gol ma l'arbitro aveva segnalato chiaramente No, alla fine È gol del l'Inter Alla fine del gol E quindi gol di Federico Di Marco Che la mette dentro sulla respinta di Carnesecchi Non capisco l'arbitro cosa stesse segnalando Lautaro la parata di Carnesecchi Di Marco che parte dietro la linea del pallone Il tiro di sinistro E il gol di Federico Di Marco Allora bisogna capire se Di Marco entra anche con la proiezione del corpo o meno nell'area di rigore Lautaro si conferma un rigorista abbastanza modesto da questo punto di vista Anche qua adesso ancora VAR Perché bisogna capire se... No, no, l'ha segnato Gol, gol Sì, sì È un po' difficile stasera capire il dialogo di Tanto È proprio quello che stavi dicendo tu Francesco Nel momento in cui c'è il contatto del pallone con il piede di Lautaro Stavano controllando se Di Marco era già in aria o no Era dentro E non era dentro perché ha dato il gol Non era dentro perché ha dato il gol Quindi Inter 3, Atalanta 0 Veramente oggi dal punto di vista del VAR servono meno male Ci servono gli occhiali 3-0 per l'Inter che credo se segnasse ancora un gol Stabilirebbe credo il record di partite consecutive Sì, 4 gol a partita Di 4 gol a partita Perché arriva dai 4 gol di Roma I 4 gol con la Salernitana I 4 gol di Lecce Ed è già 3 contro l'Atalanta Mai nella sua storia l'Inter ha segnato 4 gol per 4 partite consecutive Attenzione a Ederson, il tiro fuori L'Inter nel 47 aveva fatto queste 3 partite con 4 gol Adesso andiamo addirittura a superare anche questo riferimento Comunque c'è una partita veramente strana Nel senso che con episodi anche particolari L'Inter l'ha messa subito dalla sua parte Però su tutti gli episodi c'è stato Il gol annullato all'Atalanta perché l'ha toccata di mano il giocatore dell'Atalanta Poi c'è stato Attenzione adesso però l'Atalanta con Decatelare ci prova ancora Koppmeiners che però rimane fermo Arriva Slani e riesce a far su il pallone Poi insomma errori della difesa dell'Atalanta E ora questo rigore però ingenuità Anche dell'assistente di linea devo dire ingenuità Attenzione Dunfris lanciato nello spazio Esce ancora carne secchi Stavolta non ci pensa due volte La butta in fallo laterale Fallo laterale per l'Inter in zona d'attacco Non è finita, non è finita Nel senso che l'Inter non si vuole fermare Entra Baccher Entrano due giocatori nell'Atalanta Che a questo punto pensa al Bologna Secondo me Eh direi proprio di sì Lukman per Miranciuk E Baccher a questo punto credo per Zappacosta vediamo Oppure Atebur con Zappacosta che può andare a destra Esce anche Kopmeners Esce anche Kopmeners Sicura ti toglie Kopmeners E bandiera bianca di Gasperini Ha un tentativo di recuperarla Fuori Kopmeners dentro da dopo Vuol dire che Gasperini ha in testa soltanto il Bologna Partita importantissima per l'Atalanta Perché insomma abbiamo visto Classifica alla mano In questo momento Finisse il campionato oggi Ed entrassero le prime 4 Non le prime 5 Esce Colasinac Quindi non un esterno Rimangono in campo Sia Zappacosta che Atebur Ed entra Baccher Al posto di Colasinac E' chiaro che alzi Bandiera bianca E anche Scalvini Figur di 4 Ed entra Ien 4 cambi in un colpo solo Proprio Entra Ien Insomma L'Atalanta è diventata la partita Per far fare minutaggio A chi gioca di meno No Paolo mi sembra In ottica Europa League In ottica Bologna Ed Europa League Allora il Lecce Si è reso in due minuti Secondo e terzo gol dell'Inter Proprio in questi minuti Al decimo del secondo tempo Qua il calcio di rigore Ha dato l'ammazzata definitiva All'Atalanta E quindi Gasperini Inizia a pensare anche Ad Atalanta a Bologna Di domenica Non solo perché dice Ma mancano 4 giorni Ma anche lo sforzo Di domenica scorsa Di oggi Cerca di risparmiare i minuti Ecco per esempio Adesso fallaccio sull'Autaro Che io toglierei Urgentemente La contromossa Che ha bisogno Anche lui Ha segnato Anzi stavo dicendo Due gol No perché il rigore Ha sbagliato Ha segnato comunque un gol Ha sbagliato il rigore Però poi Di Marco Insomma Ha segnato il terzo gol Quindi l'Inter Che è al sicuro Per quanto riguarda il risultato Però i cambi Ci sta Che adesso arrivino Anche da parte di Inzaghi Che aspetta di solito Il sessantesimo Ci siamo quasi Siamo al cinquantanovesimo 3 a 0 per l'Inter Ricordo i gol Darmian al ventiseiesimo Lautaro Bellissimo gol Al quarantaseiesimo Del primo tempo E poi Di Marco Una ribattuta sul rigore Parato da Carnesecchi Che ne aveva già parati due Nel doppio tentativo Qualche giornata fa Di Pinamonti Di Pinamonti Col Sassuolo Oggi ne ha parato un altro Però non ha potuto niente Sulla respinta È arrivato Di Marco Che ha segnato Il suo quarto gol In campionato Michele mi incuriosiva Il fatto Una tua valutazione Sull'autaro Martinez Strepitoso Centravanti D'area di rigore Ma che Va così in crisi Quando si tratta Di battere un rigore Che sappiamo essere Una tipologia A sé stante Cioè tu puoi aver fatto Tutti i gol del mondo Ma il rigore È un rigore Non so il tuo rapporto Come fosse Con i rigori Ma io devo dire Molto buono Anche perché In serie A Ne ho tirati qualcosa Come 18 Ne ho sbagliato uno Credo che Ricore parato È sempre sbagliato Quello rigore Se è calciato bene È impossibile Per il portiere Prenderlo Molto strano Per uno come Lautaro Perché Sta facendo Un'annata strepitosa È un attaccante completo A tutto Praticamente Quindi Probabilmente Non è serenissimo Quando va sul dischetto De rigore Ma lo si allena il rigore? Sì Sì? Eh beh sì Però comunque Più che allenarlo Allenare il gesto tecnico Devi allenare la mente Cioè È Certo È quello che secondo me Fa la differenza Cioè quella consapevolezza Che se lo calci bene È angolato Il portiere non ci arriva mai Deve essere una prerogativa Di chi calce Tra l'altro Quest'anno Le aveva segnati Gli altri due rigori Gli altri sette Li ha segnati Cianoglu Ma in totale Nell'Inter È l'ottavo rigore sbagliato Eh insomma Su 22 Attenzione ora Lautaro Che si invola Ma Jim City Lo ferma Ma ancora Frattesi Che si inserisce L'arbitro dice Che si può proseguire Nonostante il fallo Sull'autaro Perché la palla C'era all'Inter C'era Dunfri Sul sinistro Il tiro deviato Ancora Inter In avanti È entrato Frattesi Al posto di Mkhitaryan Quindi il secondo cambio Per Inzaghi Al 62esimo Ne ha fatti ben 4 In un colpo solo Al 57esimo Gasperini Ricordo Lukman ha dopo Bacchere e Ien Al posto di Miranciuk Copmeiners Colasina Che Scalvini Quindi l'Inter Ha ancora 3 cambi A disposizione Sbaglia a tenere in campo Ancora Lautaro Adesso ha monito Ien Sono d'accordo con te Per la prima volta Stasera Ti facciano male Hai ragione Lautaro Adesso forse perché ha sbagliato Il rigore Gli vogliono far fare I gol Per la classifica Però L'Inter non ha solo L'obiettivo scudetto Perché lo stesso Lautaro Ieri al magazine Della UEFA Ha parlato di obiettivo Champions Dopo che lo stesso Turamma Ogno ha detto obiettivo Allora se è un obiettivo Devi pensare che a marzo Aprile Avrai partitissime importanti Se è 3 a 0 Al 65esimo E uno dei pochi Che ha giocato anche domenica Ha segnato Può uscire Secondo me Poi non so E lì dipende Nell'equilibrio Dello spogliatoio In questo momento Se è meglio togliere lui O è meglio togliere Arnautovic Per fare entrare Sanchez Uh tacco di Lautaro Ancora Di Marco Che ci risponde Quindi Lautaro Ma non è che non sta giocando bene Il cross di Di Marco Troppo lungo per tutti Non è che non sta giocando bene Proprio precauzionalmente Se è già infortunato Turam Sanchez tra l'altro Scalpita Ha fatto per la prima volta 95 minuti L'ho anche scritto Finalmente Ma senza polemiche Insieme Eccetera eccetera Ma credo che abbia meritato Anche con la prestazione di Lecce Di fare un altro spezzone di partita Almeno una mezz'oretta Adesso mancano 25 minuti Più recupero E quindi potrebbe essere arrivato Il momento Almeno del terzo e quarto cambio Poi ti lasci il quinto E ripeto Secondo me I due che saranno sostituiti Sono proprio Di Marco e Lautaro Paolo non abbiamo più ripreso Il discorso Conte Mi ero ripromesso Di ritornarci Ma Michele parlava di No Ha parlato di Mila, Juve In Italia Napoli e Roma Tu dici non sono d'accordo Perché? No no Non è che non sono d'accordo Da quello che So che filtra Poi magari le cose possono cambiare Fino a Ieri Per modo di dire Conte Che si è sentito tanto Con De Laurenti Non mi sembra Che sia intenzionato Ad accettare Napoli Non so se poi Nelle ultime settimane È cambiato qualcosa Magari Michele Lo sa più di me Io non lo so Onestamente Ma non mi risulta Sul Milan Da segnali che arrivano dal Milan Intanto Lo dicevamo anche ieri sera Pioli Secondo me È ancora dentro Al 60% Almeno Non è detto che Pioli Sia fine corsa Però Da quello che ho capito Hanno l'idea Di un allenatore Più giovane Più moderno E meno Attenzione Scusa Paolo L'Atalanta con Ederson Il tiro respinto È meno ingombrante E quindi mi riferisco A Tiago Motta A Palladino Dicevano anche Lopeteghi Lo spagnolo Cioè Conte Io Tra Milan E Napoli Non lo vedo proprio Sulla Juve Lo stiamo raccontando Se non molla Il colpo Allegri La loro intenzione Comunque È di proporgli La squadra Che vorranno fare E anche un prolungamento Del contratto Chiaro Che se però Mollasse Allegri Io penso che lì Sia più Tiago Motta Di Conte E quindi Non vedo La Roma Scusami Diamo solo notizie Di questi cambi Che erano quelli Che vi dicevo Alexis Sanchez Al posto di Lautaro Carlos Augusto Al posto di Di Marco Esattamente Metà secondo tempo Ovazione Del pubblico di San Zio Tutti in piedi Proprio per il capitano Ma credo anche Per la prestazione Di Di Marco Oggi Che ha causato Il secondo gol E ha segnato il terzo Così come Lautaro Ha provocato il primo E ha segnato il secondo Poi ha sbagliato il rigore E quindi Tutto giusto così Anche le sostituzioni Ne mancherà un'ultima Che poi più in là Sicuramente Inzaghi farà No insomma Per farla breve Io non penso Che ad oggi Conte Sulla panchina Di una squadra italiana Vedo magari di più Un ritorno in Premier Non dimentichiamo Che Conte Nell'ultima intervista Che ha fatto al Telegraph Ha detto Io non posso permettermi Di prendere Una squadra Che vuole solo divertirsi Col gioco Io devo vincere Perché tutti Mi aspettano al Varco E si aspettano Che io vinca No? La sua ossessione E non lo so Se un gravite Squadre che possono vincere In Premier E beh Ce n'è C'è il Liverpool Che per le Klopp Però Il Liverpool per le Klopp E lo United Probabilmente cambia Il Chelsea Probabilmente cambia Cioè Comunque Ci sono delle squadre Però dopo aver Spesso detto Che le scelte di Conte Sono molto scelte Anche legate Alla famiglia Al desiderio Di rimanere Non dico necessariamente A Torino Ma quantomeno In Italia Credo che Uno degli aspetti Più negativi Della sua esperienza Inglese Con il Tottenham Fosse proprio La mancanza Della famiglia Sicuramente Ripeto Anche su qua Michele ne sa di più Però io credo Che lui avesse bisogno Di tornare in Italia Proprio anche In quel momento delicato Con la scomparsa Di Ventrone Lui che non è stato Bene fisicamente Però Sai Questa sosta Probabilmente L'ha rigenerato Magari Gli ha fatto vedere Delle altre prospettive Poi non penso Che lui Dica Io preferisco stare In Italia Poi però Non trova La combinazione giusta Allora cosa fa Sta fermo un altro anno Io non credo Che lui stia fermo Un altro anno Cosa ne pensi Michele No penso che Per quello che ho premesso Ho detto Sono curioso Di vedere Dove andrà Antonio Conte Perché secondo me Dove andrà lui Sarà la squadra Che potenzialmente Se avrà Voglia Di arrivare in Italia Sarà quella La squadra che vince Perché lo reputo Veramente Al di sopra Di tutti Gli allenatori Che abbiamo E che conosciamo Ma grande azione Di Dumfries Che se ne va In mezzo a due Poi Ammunizione di Baccher Per fermarlo Dumfries scatenato Io credo che Anche per Madrid Crescano le sue Quotazioni Per una maglia Da titolare Perché ha fatto Tre mesi alla grande Poi l'infortunio Poi non è tornato Granché a gennaio Adesso addirittura Si parla A proposito di mercato Di volersi risedere Al tavolo Per la trattativa Per il rinnovo Che sembrava ormai saltato Punizioni adesso Per l'Inter Un Dumfries In nettissima crescita Quando sta bene Fisicamente Può fare la differenza Con la sua fisicità E lo strapotere fisico Volevo aggiungere Su Antonio Che se io fossi Un dirigente Della Juventus Del Milan Del Napoli O della Roma Che voglia di vincere Lo scudetto Non vado a rischiare Un punto interrogativo Come potrebbe essere Tiago Motta Perché Tiago Motta È un allenatore Che secondo me È pronto La punizione di Lautaro La palla al centro Il gol dell'Inter Con Frattesi Non di Lautaro Ovviamente Che è uscito il cross Ma il gol È sì di Frattesi Goal Dell'Inter Il quarto in Serie A Ancora Frattesi Aveva segnato E da continuità Ha detto Entrare in questo stadio Con questa gente Abbatterei un muro A capocciate E ancora una volta Ci mette la testa E la mette dentro Piede testa Adesso si lamenta un po' Perché forse ha preso un colpo Il gol qua è regolare Non c'è nessuna protesta Niente da dire L'hai chiamata Francesco Per la quarta partita consecutiva L'Inter segna almeno quattro gol Adesso vediamo se li supera Si è fatto male Frattesi chiede il cambio Frattesi chiede il cambio La punizione è di Sanchez Il colpo di testa di Frattesi Ma come si è fatto male Io non capisco È in allungo credo È fermo Fa il colpo di testa Da capire la posizione Non so Di uno che è dietro Dovrebbe tenerlo Quello dietro in gioco Credo Ma io non capisco Come ha fatto a farsi male Perché è fermo Io ho visto Appena esultava Ha avuto quella smorfia Ha fatto subito una smorfia E poi ha parlato con Si esce subito Frattesi Anche veramente proprio Arrabbiato Entra Klassen Coro della curva Lui che saluta tutto lo stadio Ma scuote la testa Beh credo chiaramente Un problema muscolare Però cammina veloce Cioè non ho mai visto uno Che ha un problema muscolare Che va così veloce Ma dove? Gli dice Inzaghi E dice No ho sentito La coscia No l'adduttore L'adduttore destro Ferri adesso ci fa capire bene Perché Ferri proprio Tocca il punto Praticamente la coscia destra L'interno Il gole è buono Il gole è buono Il gole è buono 4-0 Inter Quarto poker consecutivo La prima volta nella storia La prima volta Pennellata di Sanchez Che ancora una volta Mette un assist Qui è sulla palla inattiva Però Ha un grande piede Insomma Lo fa valere Ma è bravissimo Frattesi a inserirsi Credo che Spalletti Ne terrà conto Quest'estate Perché è anche molto riposato Direi di sì È un po' la notizia Che macchia Se vogliamo La serata dell'Inter In questa festa E l'ennesimo festival Del gole in casa Nerazzurra Adesso il problema È sempre ripeto Il 13 di marzo Oggi è il 28 Mancano 14 giorni Beh Se ha avuto un risentimento All'adduttore Dubito che in due settimane Recuperi Per Madrid Sinceramente Sì C'è il dato Diciamo la segnalazione Sull'infortunio di Frattesi Da parte dell'Inter Al momento Sarebbe una contrattura All'adduttore destro Da valutare nei prossimi giorni Diciamo che Se così fosse confermato Però sai In questo momento Parlare di contrattura Vale tutto e non vale niente Infatti su Turam Poi si era detto Contrattura Invece poi gli esami Hanno trovato Un'elongazione Che richiedeva Qualche giorno in più Tra l'altro Quasi sicuramente Gli esami Non verranno fatti Neanche domani Ma dopo domani Perché di solito Si lascia passare Comunque un giorno Di tempo Prima di effettuare L'esame clinico Però insomma Mettiamola così In questo momento È lecito dire Che il ritorno Di Champions League È abbastanza rischio Per Frattesi Che sicuramente Non ci sarà E non verrà rischiato Contro il Genoa Lunedì Questo mi pare Abbastanza evidente Da capire poi Tra Bologna Atletico Poi diciamo Che non sarebbe Titolare Anche recuperato Questo dobbiamo dire Però l'effetto Frattesi Quando entra Anche in Champions È stato importante Col Salisburgo Entrò sull'1-1 Si procura il calcio Di rigore Con il Benfica Fuori casa Ha fatto un gol Bellissimo Di sinistro a giro Insomma Anche nella partita Con l'Atletico È stato decisivo Perché quando è entrato Ha rubato quella palla Sulla tre quarti Da lì è nato il gol Quindi è un giocatore Che riesce a essere Decisivo In pochi minuti Per questo dicevo Anche Spalletti Ne te racconto sicuramente Intanto il dato Dei tiri Nello specchio È 7-1 Per l'Inter Con 14-6 totali Ma nello specchio Fa impressione 7-1 Fa capire Che l'Inter Sì Quello sbandamento Un po' L'abbiamo raccontato Nei primi 15 minuti 20 minuti Della partita Dopo il gol L'Atalanta Non è mai riuscita A stare in scia Con delle Anche delle imprecisioni In difesa L'Inter è venuto Tutto naturale Facile Semplice Io Non mi aspettavo Ancora adesso Vince 4-0 È la squadra Tra le due squadre È la più concentrata Sicuramente Ancora adesso E sta vincendo 4-0 Beh adesso credo Che abbiano intenzione Di non fargli fare un gol Cioè credo L'idea del clean sheet Anche stasera Ma poi entrano Dei giocatori Per esempio Sanchez e Frattesi Vabbè Frattesi Adesso è anche uscito Ma che vogliono far vedere Di poterci stare In questa squadra Sanchez lo fa capire Sempre che vuole giocare di più E oggi Insomma è entrato Veramente anche Al di là del risultato Molto molto bene Così come Frattesi Che aveva segnato E ce ne sono Insomma tanti Bravo E quello l'atteggiamento Che doveva avere Arnautovic Eh invece è vero Arnautovic un po' Però anche per caratteristiche Secondo me Lui è proprio uno Che non ce l'ha più Di fare pressing O di avere la falcata Ecco per esempio Adesso se ne va Sanchez Nello spazio Cerca di superare Il primo Il secondo E poi alla fine C'è un cartellino Giallo Per il giocatore Dell'Atalanta E Adopo Che lo ferma No Ture È il Bilal Ture Che lo ferma E quindi cartellino giallo Per lui Sanchez scatenato Ha battuto quella punizione Del gol Poi dribbla Sta subendo 4-5-6 palli Negli ultimi 10 minuti Ha proprio una voglia Pazzesca Di mettersi Di trovare più spazio Non a caso Ho usato quell'avverbio Finalmente Una partita intera Ora è un no look Per De Vrij Che si sgancia anche lui 90esimo minuto Inter che fino in fondo Prova a segnare anche il quinto gol Con Dunfris a destra Ecco non ho citato Dunfris Che è entrato anche lui Benissimo Cioè chi entra Mette in difficoltà l'allenatore Perché per la prossima Vuole fare più minuti Si divertono a giocare E si vede Ora Barella Una palla filtrante Per Per l'inserimento in avanti Di Pavard Che va a cercare anche lui Il gol Tutti i difensori I centrocampisti Vanno nello spazio Fino all'ultimo minuto Non c'è assolutamente voglia Di fermarsi Di gestire Cinque minuti di recupero Abbastanza particolare Su 4 a 0 Dare cinque minuti di recupero Mi sembra discutibile Come scelta Ma vabbè Ora Classen Carlos Augusto sul destro Il tiro deviato In calcio d'angolo Calcio d'angolo per l'Inter Che va ancora avanti Dalla Sicilia 1202 chilometri Che ho fatto per te Dopo Zanetti Un solo capitano Lautaro Uno striscione inquadrato In tribuna Tanti striscioni Tanti applausi Ti stanno chiamando il coro Eh potrebbe essere Quello è certo I chilometri Che ho fatto per te Mi suggeriscono Che alla fine Al fisco finale Parte il coro Parte il coro Dobbiamo capire Se fare il coro Per lo scudetto O il coro Per il percorso Champions Ah beh Quello sceglilo tu Vedi te Insomma Beh stando sul campionato Forse per lo scudetto Stiamo sul campionato Eh sì Dai No perché questo Che chiamava Francesco A cui faceva riferimento È un coro Che ha portato Diciamo l'anno scorso L'hanno iniziato a fare Poi l'Inter ha iniziato A vincere le partite Ed è entrato così tanto Anche negli avversari Che quest'anno Vi devo dire Ero a San Siro Col Benfica Forse la migliore partita Dell'Inter a San Siro In Champions E c'erano I match analyst Del Benfica In tribuna stampa E quando è partito Eh per la gente Che ah ma soltanto Erano proprio Non ce la facevano più Ricordavano l'anno scorso Questo coro Perché anche A Lisbona Aveva riecheggiato Nello stadio del Benfica E dice No basta Basta Di nuovo questi qua E il Benfica L'ha visto un po' Come un incubo Perché comunque L'anno scorso Aveva fatto un ottimo cammino Poi con l'Inter È andata male Quest'anno È andata ancora peggio Perché nel girone È andato veramente Veramente male Punizione per l'Inter Credo che adesso Arriverà il fischio Uno sconsolato Gasperini Che pensate Le trenta squadre Affrontate da lui In Serie A Da quando è all'Atalanta Sono otto anni Le ha battute tutte Fuori casa L'Inter Rimane tabù È finita Quattro a zero Per l'Inter Che è andata in gol Con Darmian al ventiseesimo Lautaro al quarantaseiesimo Poi nel secondo tempo Di Marco Una respinta del rigore Sbagliato da Lautaro Da carne secchi E poi Frattesi Su punizione di Sanchez Il colpo di testa Di Frattesi Che poi è uscito Per infortunio Ecco gli unici due Purtroppo dati negativi Della serata Questo piccolo infortunio Di Frattesi Speriamo niente di grave E poi il rigore Sbagliato da Lautaro Che abbiamo visto Anche per la classifica Si conferma un gran rigorista Anche perché altrimenti Ottavo errore per lui Su 22 Però evidentemente C'è di peggio Ecco mettiamola così C'è di peggio In questo caso Hai qualcosa da accennare? Ma no sì Accenniamo Allora il coro di quest'anno Perché poi ogni anno È legato un coro E adesso da Roma Inter in poi I tifosi dell'Inter In trasferta Da Roma Inter in poi Ok sì Cantano in tutte le partite Io giro l'Italia per te Sognando di nuovo il tricolore Perché l'Inter è il nostro vero amore Dalla curva un coro si alzerà Forza Nerazzurri internazionale Te lo canterò ogni momento Quando scendi in campo La maglia che tu indossi Io quello stemma a me Lo porto dentro E questo va avanti per minuti e minuti Beh dai un applausino Ci sta Tra l'altro anche intonato È intonato No 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 A tempo, a ritmo Ma lui ha raccontato Che aveva un piccolo futuro Da No, cantavi Cantavi Il pianoforte Sì 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 Per la Per la seconda stella Ti facciamo trovare Un pianoforte in studio E farai Con Simone Barbato Che tenore Con Simone Barbato Beh spettacolo ragazzi Spettacolo Che salutiamo perché Non è diciamo Un momento facilissimo No Un abbraccio a Utre Che doveva essere qui con noi stasera Un problema familiare Che speriamo si risolva ovviamente Presto e bene Un abbraccio a Simone Un grande abbraccio a Simone Lo aspettiamo ovviamente In studio il più In fretta possibile Vi ha parlato La pizzica con Daniele Ha vantaggiato a Lecce Inter Ormai qua c'è Esattè Ci dobbiamo un po' Invegnare Siamo in trattenimento puro Da questo punto di vista Perché sai c'è sul 4 a 0 Ti devi inventare qualcosa Però ti posso dire Nonostante l'ottima performance Dell'intonato Ugo era un po' Infastidito Ma Ugo è un artista No anche perché Ugo stasera Ha cercato in tutti i modi Di trovare una roba Una roba contro l'Inter Di fronte a questa evidenza Un ufficiale ti arrendi Di fronte a sta prova di forza Fai come l'Atalanta Alzi bandiera bianca Ma deve essere cucciuti Però hai capito L'uomo intelligente Si arrende Comunque ragazzi Frattesi col giubbotto Va a salutare tutti Io chiedo a Michele Padovano Io non ho mai visto un giocatore Che ha un problemino muscolare Che corre pure Cioè proprio No ma si vede Che appena sentito Appena sentito Ha voluto prevenire È giusto fermarsi Perché qualora fosse andato avanti Magari il problema diventava più grosso Precauzionale magari Precauzionale Giusto così Quindi la speranza di recuperarlo Per il 13 c'è Credo di sì Assolutamente Certo Vedremo Vedremo È l'unica Veramente l'unica 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 nota Se vogliamo Negativa Di questa serata Perché insomma Per il resto L'Inter ha dato ampie dimostrazioni Di essere totalmente padrona Del campionato Come la classifica Che adesso possiamo andare anche a vedere Ci dimostra Ci dice L'Inter che viaggia Solitaria Con tutta la serenità possibile Verso la seconda stella 12 punti di vantaggio Sulla Juventus Credo Pratica campionato Ormai ampiamente Archiviata Vi ricordo che Alle 18 Hanno giocato Sassuolo Napoli Il Napoli Vinto 6 a 1 A Sassuolo Sassuolo che era passato In vantaggio Toto anche Possibile Matematica Perché come dicevi tu A 12 giornate dalla fine 12 punti di vantaggio Nessuno ha mai perso lo scudetto Con questo vantaggio Adesso magari passo alla storia Perché succede Però dico Allora Mancano 25 punti Per la matematica Se la Juventus Le vince tutte Arriva a 93 L'Inter Arriverà a 94 Ma credo che ne basteranno di meno L'Inter inizia l'anno Con 11 vittorie consecutive In campionato 8 Successo è l'anno Dei record di Trapattoni Le 8 vittorie All'inizio del girone di ritorno Qui è una Alla fine del girone d'andata Perché questa fa parte Del recupero Quindi 1 a più 7 Sono 8 Sono numeri eccezionali Se pensiamo Che anche con i 4 gol segnati Si arriva a 67 fatti E 12 subiti Sì sì no Clamoroso È una media Incredibile Per chiudere il tema Inter Facciamo gli up and down E poi cambiamo argomento Perché andiamo sul Milan Sulla Juve Magari due parole sul Napoli Le diciamo che Napoli ha fatto cose importanti oggi Vabbè Tra i down mi pare Che possiamo evitarli Con 4 a 0 Mi pare abbastanza evidente Ah poi Cambiamo argomento sull'Inter Però Abbiamo il filo diretto Con San Siro Per cui appena in sala stampa Arriveranno Gasperini e Inzaghi Ovviamente li passeremo in diretta Ma allora Anche se ha sbagliato il rigore Però ripeto Ha iniziato l'azione Del primo gol Ha comunque fatto Un bellissimo secondo gol Quindi non arriva 8 Ma il 7 e mezzo Lo confermo a Lautaro Perché comunque Non è che è scontato Ogni partita Continua a segnare Sono 23 gol E anche bellissimo di sinistro In 24 partite in campionato Quindi 7 e mezzo per Lautaro Poi ce ne sono veramente tanti Allora Di Marco Ha fatto una partita Veramente bella Piena di cose Come direbbe Spalletti Nella scatola Gli ha messo di tutto Cambi campo Tiri in porta Gol sulla respinta Anche Darmiana C'è il cattopero Anche Darmian Anche Darmian Allora Di Marco Resto sul 7 e mezzo Perché è una partita Veramente Molto Molto importante E poi ce ne sono tanti Allora faccio così Scrivo Subentrati 7 Perché tutti quelli che sono entrati Sanchez una voglia pazzesca Il gol di Frattesi Dunfris per come è entrato Anche Carlos Augusto Quindi c'è far capire Che sono Subentrati 7 Mi piace come definizione Omnicomprensiva Insomma di una prestazione Merita anche Darmian Darmian Come dice Ugo Va bene Ciao mister Fabrizio Carcano Il giorno Fino al 2-0 Un Atalanta in partita Poi dopo Dal secondo tempo Grandi difficoltà Però c'era anche La testa al Bologna Probabilmente Sì ma Secondo tempo Non ho visto neanche così Così male Dopo abbiamo fatto tanti cambi E è diventato più Un allenamento Che Che una partita Che è degenerata Anche in occasione Del terzo gol Direi Che poi dopo Insomma Non penso sia stato più Una bella partita Un allenamento Anziché una partita di Serie A Però Io ho avuto la sensazione Che stiamo bene Che siamo pronti Per Per giocare Le prossime partite Quella di questa sera L'archiviamo E Nella Nella prima parte Abbiamo fatto bene Contro un Inter Sicuramente molto forte Però A me la squadra Non È chiaro che Un risultato così Lascia un po' Perplessi A chi non ha visto la partita Però Siamo pronti Per le prossime Prego Buonasera Giorgio Dusin Bergamo News Alla luce del risultato Soprattutto Che un po' di delusione Comunque immagino La lasci Che Che importanza assume Il match col Bologna Di domenica Non tanto dal punto di vista Della classifica Ma soprattutto Della fiducia Comunque che immagino Che comunque un 4-0 Non può intaccare Grazie Ma guarda Forse per te Per noi Non è questo il risultato Che ci intacca Assolutamente E non è questo Il tipo di partita Che Che ci può intaccare Moralmente Visto anche quello che Che finché c'è stata partita Abbiamo Comunque È fatto contro Una grande inter E quindi È una partita Molto anomala Molto Molto strana E adesso La giochere Penseremo Alla prossima Quando si gioca Ogni tre giorni Non c'è tempo Di pensare In negativo O troppo in positivo Prego Buonasera Mister Alberto Gianbruno Tele City Network A proposito Di quello che diceva Poco fa Del fatto che Col risultato Oramai è andato È stato quasi Una sorta di allenamento Ha avuto qualche risposta Da chi è entrato Nel secondo tempo Positiva anche per le gare Che ci saranno Grazie Ho già detto prima Mi sembra che abbiamo Una buona condizione Stiamo bene Stiamo bene Chiaro che Adesso Ci sarà un'altra partita Poi ci sarà Lo Sporting Giovedì A Lisbona Poi avremo la Juventus Poi avremo di nuovo Lo Sporting Poi andremo a giocare Con la Fiorentina Poi riprenderemo Col Napoli Con la Fiorentina Ritorno All'andata di Europa League Di Coppa Italia Scusate Quindi Belli carichi Pronti E ripartiamo Prego Sì buonasera Ministro Stefano Scacchi La stampa Perché dice Anomale strana Cioè per qualche decisione Ma è una sensazione Che ho avuto io Però può darsi sia Solamente Da parte mia Quindi se lei Non l'ha avuta Pazienza Io l'ho risposto È una sensazione Che ho avuto Non so Magari l'ho avuta Solo io Può darsi Per la decisione Per la decisione Sul gol annullato No Io di solito Gli episodi E dei regolamenti Ne parlo Quando vinco Prego Prossimo Buonasera Giampiero Paolo Vinci Telecity Network Io ho avuto L'impressione Che l'Atalanta Questa sera Sia stata Più in palla Che una partita Colmina Che abbiamo visto Tre giorni fa Mi è piaciuta Molto di più E se Gli episodi Non sono stati Non fossero stati Avversi Forse Sarebbe Rivasto in partita Anche di più Forse avrebbe vinto Magari l'Inter Lo stesso Però sarebbe stato Una partita vera Prego Giampiero Carlo Bianchi TercerTiempo.es E' vero che Tre giorni fa Ci hai detto Che è inutile Fare tabelle Previsioni Commenti Perché insomma Avete delle partite Una via l'altra Il famoso pacchettino Infiocchettato Che tu hai detto E tutto quanto Però Avere partite Molto vicine Una dall'altra Vuol dire Che siete una grande squadra Bisogna ammetterlo Vuol dire Che abbiamo Tanti vorrebbero giocare Tre partite In una settimana Evidentemente Qual è l'aspetto Positivo Che ti porti Da qui a fine stagione Guardando la tua squadra Noi siamo dentro Siamo dentro A tutte le competizioni Almeno per quelle Che sono i nostri Traguardi Noi siamo dentro Alla possibilità Di andare in Europa Anche Siamo a due punti Dal Bologna E domenica Abbiamo scontro diretto Siamo dentro Siamo dentro Alla semifinale Di Coppa Italia Siamo dentro Agli ottavi Di Europa League E' chiaro Che adesso Di qui in avanti Le partite Diventano Sempre più Decisive Ma noi Dobbiamo essere Molto soddisfatti Poi dopo Capitano Partite Come quelle Di questa sera Devi essere Anche pronto Ad archiviarle A guardare L'aspetto buono Della partita Che abbiamo fatto E pensare A quella successiva Non abbiamo Tempo Per Per spendere Energie In altre cose Ultima Grazie Filippo Maggi Calcio Atalanta Buonasera Le chiedo Innanzitutto Nell'ambito Della lotta Champions in generale Come vede Proprio il campionato In questo momento Anche Magari il cambio Di panchina Della Roma Che ha rivitalizzato Molto questa squadra E dopo quello Che abbiamo visto Lunedì Tra Lazio e Fiorentina Proprio in questo momento Come fotografa Anche la situazione Delle altre Siamo lì a competere Noel Bologna Con Roma Lazio Napoli Ne è salto Qualcun'altra Fiorentina Forse anche il Torino Chi lo sa Eh? Beh Anche Il Milan E più avanti Cioè Parlo solamente Di quelle che sono Che sono molto Molto vicine È una bella È una bella lotta È una bella battaglia Quindi Competiamo con delle piazze Molto Molto importanti Molto forti L'Europa Sappiamo che per tutti È È un punto Per alcune società Alcune squadre È fondamentale No? Per noi È sicuramente Il massimo Dei traguardi E faremo di tutto Per raggiungerlo Grazie a tutti Buona serata Buon lavoro Questo è dunque Gian Piero Gasperini In studio Vi posso garantire Che insomma Non tutte le risposte Sono sembrate convincenti E poi comunque L'ha buttata lì Partita strana E anomala Poi non è entrato nel dettaglio Insomma In riferimento All'episodio arbitrale Che in qualche modo Ha spezzato L'equilibrio Di questa partita Con il governo Lato De Keteler Gli è rimasto un po' qui E comunque Dicendo e non dicendo Di fatto lo ha detto Davanti Buonasera Non lo so Abbiamo fatto gol Abbiamo trovato il raddoppio Abbiamo preso Una traversa Che poteva Già chiudere Al primo tempo E poi al secondo tempo L'abbiamo Siamo rientrati in campo Con quella voglia Perché sapevamo Che l'Atalanta È una squadra Che rimane sempre in partite Quindi È un'ottima vittoria Che ci fa proseguire Nel nostro percorso Aria Ciao Simone Ciao Senti Sui social Leggendo insomma Quello che dicono I tifosi dell'Inter Più o meno anziani Quasi tutti Dicono che un Inter così Anche quelle vincenti Non si era mai vista E quindi volevo sapere Rispetto a questa riflessione Qual è la tua Emozione Se ce l'hai sensazione Perché Un Inter così Non si è mai vista Nella storia dell'Inter Ma chiaramente Mi fanno Mi fanno enormemente piacere Questi complimenti Ma Come l'ho già ripetuto È tanto tempo Che insomma Che la squadra Gioca bene Sono due anni e mezzo Che penso che l'Inter Faccia un ottimo calcio A volte non abbiamo dato seguito Ai risultati Però È stato un grandissimo percorso L'ho detto prima Durante l'intervista Da Zon Che sono due anni e mezzo Che Sono Molto soddisfatto Di quello che Sta facendo la mia squadra Perché Giocano bene Chiaramente in questo momento Quattro vittorie Con quattro gol di scarto Undicesima vittoria a fila Il primo trofeo Della stagione alzato Fa piacere Ma sappiamo che Dal 28 di gennaio Al 28 di febbraio Abbiamo Abbiamo messi Questi 12 punti Di vantaggio In un mese Ce lo siamo creati Quindi sappiamo che I giudizi Sono Sono molto veloci Nel calcio Chiaramente fa piacere Ma Dobbiamo rimanere Concentrati Sapendo che Ci saranno Tantissime partite Da qua alla fine Prego Ciao mister Ciao Marotta prima della partita Ha detto che Tutta l'Inter Vuole continuare con Inzaghi Volevo sapere Il tuo punto di vista E se può essere Magari un bel segnale Quello di ipotizzare Anche un rinnovo di contratto Addirittura prima Della fine di questa stagione Per quanto bene Sta facendo l'Inter Ma questo insomma Ha risposto Ha risposto Il direttore Insomma io Sto bene qua Quindi Lo sanno E adesso In questo momento Non mi sembra il caso Il momento di parlare Insomma di Di queste cose Noi dobbiamo rimanere Concentrati su quello Che succede in campo Mancano 90 giorni all'incirca Meno di tre mesi Perché Ne mancano 85-90 giorni E dobbiamo mantenere Questa concentrazione Sempre Perché Giochiamo tanto Spesso Con qualche giocatore Che dobbiamo cercare Di Di non lasciare indietro Perché in queste partite Qualche giocatore L'abbiamo L'abbiamo perso Non per cose Importantissime A parte Quadrado Che l'avevamo perso A gennaio Che tra un mese Sarà ancora con noi Gli altri Tra la prossima E Bologna E Bologna Rientreranno sicuramente Tutti e tre Sensi Probabilmente Dopo la sosta E dovremmo valutare Frattesi Perché stasera Ha avuto un problemino Che è l'unica Nota dolente Della serata Perché Davide È in un ottimo momento E quindi Ci dispiacerebbe Perderlo Prego Le ultime due Poi chiudiamo Con tutto il mercato Paolo Vinci Network Telecity Ciao Io ti voglio fare i complimenti Simone Veramente i complimenti Perché la società Ti ha messo a disposizione Ovviamente una squadra Eccellente Ma la squadra Ha dimostrato anche Di rispondere fortemente Io vorrei fare una domanda A Simone Inzaghi Per Simone Inzaghi Se ovviamente Si sente maturo Si sente cresciuto Si sente ormai Al top della carriera Se autostima sua E non Della squadra Abbiamo già parlato Della società anche Ma io Sto bene Dove sto Dove sto lavorando Sono stato benissimo Gli anni alla Lazio Quello che posso Dire Pensare che Mi sono sempre divertito A vedere giocare Le mie squadre Dalla Lazio All'Inter Da due anni e mezzo Quindi La più grande soddisfazione Per un allenatore Sia quella Poi insomma Ho avuto la fortuna Di raggiungere Traguardi importanti Però Nel calcio Non bisogna guardare Mai indietro Bisogna guardare avanti Come ho detto Abbiamo 12 partiti Di campionato Abbiamo una Champions Da giocare La gara di ritorno E Sappiamo che Ci sarà ancora Tanta strada da fare Con degli obiettivi Importanti davanti a noi L'ultima Buonasera Mister Complimenti Anche questa sera Insomma In settimana è diventato Virale sui social Un video di un commentatore Inglese Che diceva È il miglior momento Di sempre Per ti fare Inter Poi abbiamo letto Che piace anche A qualche big Straniera Volevo chiedere Quanto le fa piacere Questo riconoscimento Internazionale Del suo lavoro E del lavoro Della sua Inter Ma fa Enormemente piacere Insomma Io non penso Che si debba parlare Solo di indaghi Si debba parlare Dell'Inter Tutti insieme Stiamo facendo Un ottimo Un ottimo lavoro E dobbiamo E dobbiamo Continuare a farlo Poi chiaramente Interessamenti Sono cose Che si leggono Si sentono Ci sono sempre state Non In questi ultimi due mesi Ci sono state Quando le navo la Lazio Ci sono state Al primo anno di Inter Quindi quelle ci sono sempre state E speriamo che ci siano sempre Ma Non mi interessa sentirle Mi interessa lavorare Nel migliore dei modi Con i miei giocatori Con la mia società Con i tifosi E col mio staff Che È sempre con me Perché si parla di Simone Inzaghi Ma ho Tante persone con me Da più di Dieci anni Che Mi aiutano tantissimo In questo In questo lavoro Che Dà Tante soddisfazioni A volte Delusioni Ma È bello esserci dentro Grazie Grazie Eccoci qui Allora di noi insieme Dopo aver ascoltato anche Inzaghi Poi parliamo anche di Gasperini Perché sul fronte Atalanta Insomma C'è un po' di polemica In atto Effettivamente L'ultima battuta Che fa Simone Inzaghi Mi porta a fare questa domanda È vero che l'Inter È La migliore squadra D'Italia E lo confermerà Vincendo lo Scudetto Ed è sicuramente Tra le top Quattro Secondo me D'Europa Potenzialmente Poi non so se ci arriverà In semifinale o meno Ma effettivamente Non si prende in considerazione Un'ipotesi Che qualche top club Possa andarsi a prendere Inzaghi Cioè L'Inter è un top club Ma Perché il Barcellona Che molla Chavi Non potrebbe pensare A Simone Inzaghi Come allenatore Oggi è stato scritto Ieri è stato scritto In prima pagina Anche sul giornale Tutto sport Però Inzaghi Ha sempre risposto Tu dici Vabbè ma sono dichiarazioni ufficiali Come per Lautaro Se uno fa il doppio Da interista Sei preoccupato Che qualcuno ti venga a prendere l'allenatore A fine anno Allora io no Perché credo che lui Io l'ho percepito Anche non davanti ai microfoni Che lui sia sinceramente Voglioso Di continuare un ciclo Sì Al di là del mulino bianco No no Non mulino bianco Se arriva il Bayern Monaco Che gli mette 15 milioni di euro all'anno Che fai Inzaghi? Tu hai sempre la visione In questo caso Da dentro l'Inter Io l'ho visto L'ho visto Paolo Dicevi così anche di Skriniar Eh ho capito Ma siamo in un mondo di professionismo Esasperato Però sto dicendo Se dovesse vincere un trofeo Ad esempio Se dovesse vincere la Champions Vai tranquillo Che qualche squadra Qualche club Ma sì Ma anche se non la vince Perché comunque è arrivato in finale L'anno scorso Il percorso di quest'anno in Champions Come vale anche per i giocatori Secondo me Da quello dipende L'offerta pazza Che può arrivare dai top club Se fa la semifinale di Champions Se Lautaro fa 5-6 gol in Champions Quello dipende Però secondo me Per esempio E' più attaccabile oggi Per come ho la sensazione io Il giocatore Che non l'allenatore Perché Inzaghi L'ho sempre visto Come uno che Gli piace mettere radici E fare un percorso Non è che Che finisce la carriera Con l'Inter Vede la possibilità Ancora di vincere Fare bene Adesso gli faranno L'aumento di ingaggio Gli allungheranno il contratto E se ha fiducia Che questo succederà Poi può andare in un top club europeo Tra 3-4 anni Non è che è finita la carriera Beh a volte i treni Li prendi in corsa E poi bisogna vedere Certo Dipende sempre dalle offerte Sicuramente Gli fanno la proposta E gli ritoccano verso l'alto L'ingaggio Sicuro Però Non sarà mai Un ingaggio No Saranno 20 milioni Competitivo a tal punto Rispetto a quello Che potrebbe offrire Di qualche top club importante No ma se vai In fondo in Champions È vero che quello sposta Perché ieri Per esempio Guardiola Parlava in conferenza Sempre prodomo sua Come fa Però ha ritirato fuori Nella conferenza Non c'entrava niente L'Inter Della partita del City Per stimolare l'ambiente E dire Vedete che abbiamo fatto L'impresa l'anno scorso Voi dicevate L'Inter Che è una squadra Che è Squadra mediocre Come finalista Vedete adesso Che sta facendo Vince tutte le partite In Italia Con 4 gol di scarto E ha battuto L'Atletico Madrid Creando tante palle e gol Questa cosa La stanno dicendo Tanti all'estero Molto più che in Italia Per quello che dico Che Ci sta Che qualche sirena Ci sta Un po' di alert Lo devi tenere Ecco Poi Sta Alla persona Quanto è ambizioso Se invece Uno tranquillo Se invece vuole Ritiene di non avere Chiuso un ciclo Qui Cioè Dipende Dipende Cioè quest'anno L'Inter L'anno scorso Ha perso tanti giocatori Top Cioè da due attaccanti Un centrocampista Un portiere Un difensore Adesso Quest'anno Con Zelischi Taremi Qualche altro ritocco Vedremo Cioè se tu vedi Che la squadra Ce l'hai così in pugno Che gioca così bene E fai per esempio Un quarto di Champions E vinci lo scudetto Non vai avanti in Champions Secondo me È da folli Ma l'ha detto anche Bastoni Ha detto Io oggi Perché me ne dovrei andare Oggi Anche se uno mi offre Sì Ti devono offrire Veramente Mari e Monti Il doppio Queste cose qua Se ti offrono il doppio Inizi a pensarci Ti offrono allenatore 15 milioni O al top attaccante 20 milioni Ci pensi Oh non ci perdiamo Quello che ha detto Gasperini Che ha parlato Di partita strana E anomala Facendo velato E sottile riferimento Neanche troppo velato Agli episodi Che hanno caratterizzato La partita Mette il carico da 90 Anche l'amministratore delegato Dell'Atalanta Luca Percassi Che ha detto Commentare una partita Così difficile C'è grande dispiacere Sono stati fatti errori gravissimi Da parte di arbitro e VAR Che hanno condizionato Pesantemente Il risultato a favore dell'Inter Il gol annullato De Ketelar è incomprensibile Non c'è il tocco di Miranciuk In realtà Noi abbiamo visto Che effettivamente Però c'era Sono imbarazzanti E al massimo Sarebbe stato rigore per noi Vice per Cassi Così come il giudizio Sul rigore di Ateboer Nessuno allo stadio Ha capito cosa stesse succedendo E il guardalini Aveva segnalato E il pallone è uscito Sì ma non è che Devono capirlo allo stadio C'è una salavar Dove devono capire le cose Sembrano un po' Dei tentativi Di aggrapparsi agli specchi A volte Veramente Fanno delle cose Fantastiche A Bergamo La squadra Il progetto Lo stadio E poi fanno dichiarazioni Da allenatore O da dirigente Del Borgo Rosso Con tutto rispetto Per il Borgo Rosso Perché non puoi dire Delle robe del genere L'arbitro e il VAR Hanno fatti errori Ma gli errori peggiori Gli ha fatti la tua squadra Cioè che è stato imbarazzante Dietro A partire dal portiere Passando per Attebur Che sul gol di Lautaro Praticamente Scappava indietro Invece di andargli addosso Cioè l'Atalanta È stato imbarazzante Tra l'altro a me Ha sorpreso Le dichiarazioni Di Gasperini In una versione Buonista Nei confronti Della sua squadra Perché io Però L'allenatore È più È più plausibile Cosa devo dire Ha voluto minimizzare Sì ha voluto minimizzare Ma secondo me Ha voluto spaccare l'ambiente Visto che poi Alla luce È un momento delicato Sì Alla luce di un momento delicato Secondo me Non perché lui È contento Della prestazione dell'Atalanta Secondo me Perché non ha voluto Entrare a piedi uniti Come fa di solito Perché l'Atalanta È stato imbarazzante Stasera Quell'episodio lì A parte che Voglio dire Allora il Varo Vale o non vale Ma poi bastava Vedere l'andamento Della partita Ma quando dice Ha alzato la bandierina Non mi interessa La bandierina Il giocatore si ferma Se fischia l'arbitro La palla abbiamo visto tutti Che non è uscita Quindi cosa Si attacca sul rigore Non rende onore Al bene che hanno fatto A Bergamo in questi anni Non rende onore Dichiarazioni del genere Assolutamente Però forse Michele È peggio Se avesse Alla Murigno Dopo il famoso Bodo Glimtero Ma avesse bastonato A destra Ma anche i suoi giocatori Ma credo che Sono le classiche Dichiarazioni a caldo Che a volte Bisognerebbe Pensarci un po' di più E invece Magari in quel momento Erano tutti arrabbiati E quindi È uscito proprio La dichiarazione Dettata dal cuore Dalla passione Che adesso Magari domani Rivedendosi tutto Con calma E rivedono anche Quelle che sono Le dichiarazioni Però ci sta A volte Quando sei lì In sala stampa Vai e dici delle cose Che Di rigetto Invece di pensarci Noi di qua L'abbiamo vista La palla veramente Viene sfiorata Quindi A velocità naturale A me non sembrava Che l'avesse toccata Con la mano Poi chiaramente Il VAR ha dimostrato Che la palla è stata toccata E quindi Da regolamento Il rigore ci sta Mi stupisce di più Gasperini Che dice Stiamo bene Stiamo bene Siamo pronti Per le prossime partite Con una leggerezza Che sinceramente Mi sembra che faccia Un po' pugni Con quello che abbiamo visto In campo Tra domenica Col Milan E stasera contro l'Inter Soprattutto Cioè A me non dà l'impressione Di una squadra in forma Questa La prima mezz'ora Secondo me L'Atalanta Ha giocato La sua partita E poi gli episodi Hanno ribaltato La partita In una maniera incredibile L'atteggiamento Di Gasperini Secondo me Lo comprendo Lo capisco Perché adesso ha Come diceva Paolo Giustamente prima Una serie di partite Troppo importanti Per Entrare a piedi uniti Nello spogliatoio E dire Abbiamo fatto un disastro Quindi secondo me È anche giusto L'atteggiamento Che lui ha Proprio perché Adesso È un momento Molto molto delicato Perché non giocherà Con l'Inter Tutte le partite No infatti Con l'Inter Ci sta una sconfitta San Siro Con la prima in classifica Che dà 4 gol a tutti Dai Quindi voglio dire Ma non così però Non così Cioè Da quarta in classifica È stato fin troppo facile Non ci sta così Da squadra Che vuole entrare in Champions Non ci sta una sconfitta così Beh A chi ha dato i 4 gol Vabbè Alla Roma Alla Salernitana Alla Lecce Alla Atalanta Però aspetta Perché quest'anno È l'ottava volta Su 26 partite Che l'Inter vince Con 4 gol di scala Ha dati anche Alla Fiorentina Al Milan Niente da dire Però voglio dire Tu Atalanta Non puoi Cioè E io ve l'avevo detto Prima Ti ricordi Francesco Ho detto Se l'Atalanta È quella vista col Milan Viene asfaltata E più o meno È stata quella vista col Milan Forse peggio anche Forse peggio Sì Sì ma Comunque è vero Che Oltre a queste leggerezze Davanti Soprattutto davanti all'area Anche il portiere Ci ha messo del suo Si è trovato Nel tiro di Lautaro A Temporeggiare Che non è uno dei centrali Ma sono movimenti Anche sbagliati Sul gol È vero Che la sfiora Però La sfiora Però vedi Secondo me Noi queste cose Giusto che le diciamo Perché non si fa Un buon servizio All'informazione Se quando hai lì I protagonisti E gli intervisti Oppure accetti Passivamente Qualsiasi dichiarazione Di comodo No O di autotutela Secondo me Io Andrei a casa E direi Ma ho fatto Bene il mio lavoro Ho fatto delle domande Su quello che ho visto Perché a volte davvero Cioè Sembra quasi Che la domanda Sia Provenga Dall'ufficio stampa Di un club Piuttosto che Da un giornalista Indipendente Io dico più in questo caso Paolo Il discorso di percassi Quando va il dirigente A protestare Io ho visto per esempio Quando andò con l'Atalanta Era Mi sembra Marino Che poi alla fine Non è che ci fu Il battibecco Con l'esperto Degli arbitri Di Dazon In questo caso Quando lui dice Non abbiamo capito Ci deve essere L'interlocutore Che dice Allora se tu non hai capito Te lo spiego La palla non è uscita Se l'assistente Alza la bandieria Non conta niente Perché conta l'arbitro Poi la mano di Atebur È larga Questo è Se non l'hai capito Te lo facciamo rivedere Finisce tutto Invece no Li accettano Perché sono contenti Che vanno a parlare Così si crea un po' di polverone Un po' di audite Ovvio ovvio No ma quello ci sta Perché tu Però devi replicare Un regolamento chiaro Tu devi registrare Delle dichiarazioni Però ci deve essere Anche contraddittorio Contraddittorio E comunque La cosa onesta Sarebbe stata Almeno sentire da Gasperini Ci hanno sfaltato Nei numeri e nel gioco Perché è successo quello Gli hanno sfaltati Nei numeri e nel gioco E va Gasperini però I complimenti Al gioco dell'Inter L'ha fatti Devo dire Sì Anche per casi Dopo tutto quello che ha detto Sono arrivati I complimenti all'Inter Persino da Ugo Esatto No No perfino nel senso Che era bello agguerrito No Gasperini Paolo ieri ha fatto Un grande complimento All'Inter In conferenza ha detto L'Inter ne ha vinti Di scudetti Ma non così Cioè giocando così C'è anche da dire C'è anche da dire Che non ha avversari Perché la Juventus È stata l'unica Che gli è stata attaccata Fino a un mese fa Da un mese Non c'è più neanche la Juve Quindi l'Inter Oramai c'è la strada spianata Questo assolutamente sì Grazie a tutti